Tutorial di Franco Aversa Ciao a tutti e benvenuti nella dodicesima lezione parleremo ancora di correzione primaria del colore DaVinci Resolve ci mette a disposizione dei tool veramente potenti per la correzione colore e con il vostro saper fare e i tool di DaVinci Resolve avete veramente possibilità infinite questa oggi è una lezione costruita bene importante avremo 45 minuti per completarla e la cosa simpatica è che andremo a utilizzare materiale di una produzione dello stato del cowboy in Wyoming e allora andiamo a vedere assieme il sommario utilizzo di DaVinci Resolve Management apportare correzioni automatiche bilanciamento di luminosità e colore usando le ruote colore color wheels verificare le regolazioni sugli scopes creare un grado colore neutro con le primaries bar bilanciamento con ulteriori controlli primari utilizzo delle curve per la correzione colore primaria copia delle correzioni tra riprese simili e infine come di consueto la lesson review ma proprio prima di continuare andiamo a vedere le risposte della lezione precedente Sotto la ruota colore lift cosa regola la master wheel? Sotto la ruota colore lift la master wheel regola il punto dei neri che controllo usi per rendere più fredda o più calda la tua ripresa? puoi usare il controllo della temperatura per rendere più fredda o più calda una ripresa vero o falso? non puoi usare le ruote primarie per cambiare il colore a uno specifico oggetto in una clip falso? puoi usare le ruote primarie per cambiare il colore di uno specifico oggetto in una clip solo se hai selezionato una power windows per isolare l'oggetto che tool useresti per far si che una power windows segua il movimento di un oggetto? per far si che una power windows segua un oggetto devi usare il tracker nella color page dove si trova l'effetto mosaic blur? nella color page tutti i resolve effects e gli effetti di terze parti sono localizzati nel pannello open effects ed ora avviamo da vinci e viaggiamo assieme ai cowboy mentre vediamo queste bellissime immagini del wyoming vi dico che alcuni aspetti del cinema del video sono complicati perché i produttori di telecamera cercando di darvi l'aspetto migliore delle immagini producono file differenti fra di loro e questi non necessariamente hanno un bel aspetto nei monitor hd perché magari sono destinati al cinema questo dipende dallo spazio colore da diversi spazi colore noi abbiamo diverse possibilità in da vinci di correggere di fare una correzione colore sia manuale sia attraverso le lat ma questo non sempre da un risultato buono da vinci dispone di un processo chiamato da vinci resolve color management o in maniera breve nella sua sigla rcm e questo processo contiene la soluzione idonea per lo spazio colore di diverse telecamere che viene adeguato al vostro monitor questo è il sistema più rapido e accurato per creare una correzione colore e normalizzare le vostre immagini per l'editing avviamo da vinci e portatevi nella project manager windows clicchiamo il tasto destro e andiamo su restore project archive andiamo in cerca della lezione numero 12 Wyoming Ranch e premete open un archivio conterrà tutto necessario e le riprese già linkate quindi clicchiamo con doppio clic su questo progetto che si aprirà nella nostra timeline e come vedete appunto le immagini sono già linkate così come il nostro audio che adesso io ho disattivato per fare la lezione qui abbiamo i nostri beam e la nostra timeline eventualmente si trova all'interno di timeline è questa qui se dovete cliccarla per aprirla ora siamo pronti a lavorare sulla gestione colore in timeline spostatevi con la playhead sul secondo clip questa qui questa ripresa è una ripresa di qualità perché è stata girata con black magic pocket cinema camera 4k e anche se questa ripresa ha un'ampia gamma dinamica è una vasta tavolozza colori e risulterà piatta sul vostro monitor sembra anche desaturata quello che andremo a fare è attivare una gestione del colore attraverso appunto il color management allora per attivare il color management andiamo su file project setting color management e come vediamo qua su color science abbiamo da vinci yrgb se clicchiamo qui possiamo vedere che abbiamo sempre da vinci però yrgb color manage clicchiamo qui e ovviamente non ci sono cambiamenti però qua sotto vediamo tre spazi che contengono la stessa informazione cioè input color space è il colore in ingresso timeline color space è lo spazio colore nella timeline e output color space è l'uscita nostra colore questo spazio colore rec 709 gamma 2.4 è quello che normalmente viene utilizzato nei televisori hd allora dobbiamo lasciare stare la timeline e l'output perché noi comunque vogliamo visualizzare infine questo filmato nei televisori ma andremo a cambiare l'input scegliendo cosa il tipo di telecamera vedete che qua ci sono tantissime telecamere andiamo a selezionare qua la telecamera black magic design pocket 4k fin gen 4 e ovviamente per confermare andremo a fare save e immediatamente vediamo che la ripresa acquista un altro aspetto questo processo dovrebbe essere fatto prima di apportare qualsiasi modifica alle clip sebbene possa essere cambiato perché ovviamente altrimenti avrete dei riferimenti sbagliati potrebbe succedere anche che nella vostra produzione ci siano differenti camere in questo caso come comportarci allora inseriremo lo spazio colore tenendo presente la telecamera che si vede più spesso e poi entrando nel bin delle clip potremo modificare solo quelle cliccandoci sopra e variare lo spazio colore basta andare in input color space e vedete che avete altre telecamere quindi diamo uno spazio colore a tutta la timeline e poi modifichiamo lo spazio colore delle altre clip anche se questa ripresa ci sembra più adeguata e in realtà non lo è abbiamo solo assegnato spazio colore se andiamo alla fine del filmato prima alla fine andiamo sull'ultimo scatto vediamo che è completamente sovraesposto questo succede perché quando si passa da una ripresa con un'ampia gamma dinamica ha una gamma tonale più piccola come la REC 709 la gamma diciamo va fuori scala e pertanto come potete vedere risulta sovraesposta in tutte le parti più alte del segnale ma così anche nelle parti basse perché proprio questo segnale sta uscendo fuori dallo spazio colore ma fortunatamente possiamo farlo rientrare abbastanza facilmente nel nuovo spazio colore regolando nella gamma beh innanzitutto portiamoci sulla color page perché altrimenti non possiamo fare nessuna operazione l'altra volta abbiamo visto questi controlli abbiamo visto il lift, la gamma, il gain come i neri, la gamma e i bianchi e però questa volta andremo a utilizzare l'offset perché l'offset è una ruota che andrà a modificare l'intera immagine e andrà ad aggiustarci il punto dei neri, il punto dei bianchi e la gamma e così porterà tutto il range dei toni al range desiderato prima di continuare però andiamo a accendere i nostri scope per cui clicchiamo qui e visualizziamo ad esempio YRGB che ci da tutti e quattro i segnali cioè la luminosità e i tre colori e adesso andiamo a portare su appunto offset muovendo ovviamente la master wheel e la spostiamo verso sinistra per portarla a un valore compreso tra meno 30 e meno 40 se girate vedete che tutto il segnale sta scendendo praticamente la nostra gamma colore era tutta fuori scala vedete mentre avvassate come il segnale sia giusto la portiamo appunto tra meno 30 e meno 40 perché stiamo facendo rientrare tutto il segnale lo vedete benissimo ecco attenzione questa è la sommità del segnale e questa è la parte sotto per cui andiamo a regolarla appunto tra i 30 e i 40 non esagerate portiamola io direi così attorno ai 35 vedete già come l'immagine è migliorata qualche volta la gestione colore come abbiamo visto può creare effetti molto vistosi cioè abbiamo visto che la gamma era completamente diversa e quindi avevamo la ripresa tutta sorresposta poi dipende dalla telecamera l'effetto che vediamo visivamente perché potrebbe la nostra gamma non essere così ampia e quindi vedere appunto meno sovraesposizione vediamo invece un altro esempio spostiamoci con la barra all'inizio della timeline e clicchiamo sul titolo come possiamo vedere questo titolo risulta errato lo vediamo troppo bianco questo perché è stato creato con uno spazio colore sRGB per questo anche in questo caso dobbiamo andare ad aggiustare questo spazio manualmente per farlo semplicemente tasto destro sull'anteprima andiamo su input color space e andiamo a cercare sRGB che è qui e come vedete come lo clicchiamo ora il nostro titolo è giusto ora il nostro titolo ha i colori corretti ma la luminosità è leggermente inferiore questo perché è dovuto all'impostazione che abbiamo fatto iniziale della scelta della gamma comunque lo andremo a correggere più avanti quando avremo le conoscenze è importante capire che quando abbiamo indicato la gamma giusta della telecamera questa andrà a spostarci la gamma nello spazio giusto ma se una ripresa era sbagliata come bilanciamento o d'altro questa resterà con l'errore e quindi dovremo aggiustarlo noi bisogna anche dire che l'uso della mappatura tonale con la rcm questa tecnica che abbiamo visto spostarsi la gamma tonale nello spazio giusto però siccome l'operatore quando fa la ripresa sa che ha questo tipo di macchina ha una grande gamma tonale di solito tende a sovraesporre per poter avere più segnali possibili e senza rumore quando poi ritornerà appunto con l'esposizione giusta per poter fare questo senza dover fare più correzioni ai colori ci sono in da vinci altri tool però in queste lezioni non verranno trattate nella guida per principianti ma verranno trattate nella guida specifica della correzione colore per cui potremo magari vederle in futuro finite queste le 16 lezioni ovviamente come detto l'operatore quando fa le riprese si può trovare in situazioni diverse per cui esegue sempre il bilanciamento dei bianchi però magari appunto la ripresa può risultare diversa anche nelle diverse ore del giorno in tante situazioni e problemi che va a affrontare l'operatore quindi ricordatevi sempre che dobbiamo sempre bilanciare e quindi fare la color correction prima di applicare qualsiasi nostro look perché dobbiamo avere prima tutte le riprese uguali bilanciate bene per poi applicare appunto il nostro look un nostro stile colore per fare la correzione colore abbiamo a disposizione molti tool ma uno di questi è utilizzare l'intelligenza artificiale di da vinci e farlo in maniera automatica adesso vediamo con pochi click come aggiustare infatti una ripresa ci portiamo sulla clip 7 questa qui proviamo a metterla in play come vedete risulta sovraesposta e scialba ecco qua che entrano questi cowboy padre e figlio adesso portiamo la clip trascinate fino ad avere i cavalli così in ingresso la prima cosa da aggiustare in una ripresa di solito è il contrasto quindi nero e bianco infatti quello che andremo a fare adesso ci portiamo nella ruota lift che è quella dei neri e vedete questa crocetta la andiamo a cliccare e ci spostiamo con il cursore questo che ci appare che vedete che riporta anche le indicazioni di RGB vediamo più avanti come ci saranno utilissime e ci portiamo nell'area più scura dell'immagine praticamente in questa zona qui dei cavalli per se volete avere un'area più stretta se ruotate la rotellina del mouse la possiamo zoomare e cliccando la possiamo spostare l'immagine quindi la rotellina zoomiamo e cliccando spostiamo ci portiamo in queste aree che dovrebbero essere scure perché sono in ombra e quindi con questo cursore andiamo a cliccare appunto su quest'area scura come vedete ora l'immagine è tutta scura per ritornare con l'immagine normale potete cliccare qui e fare fit e l'immagine si riposiziona come vedete abbiamo sistemato sul nostro segnale i neri adesso arrivano a zero ora faremo la stessa cosa con i bianchi infatti vedete che vicino alla ruota del game bianchi abbiamo un cursore equivalente soltanto con un puntino bianco quindi stessa cosa magari zoomiamo in un'area che sembra bianca attenzione alla dominante in che colori clicchiamo qui ci spostiamo in area bianca adesso guardate i dati sul cursore vedete che ho r255, g255 e black con questo cursore se vi muovete vedete che potete identificare il valore dei pixel vedete e quindi potete sapere che colore c'è in quella zona quindi se andate nell'area più bianca in assoluto vedrete il valore che si avvicina a 255 e 255 io l'ho trovato qua perché è 255 e 255 e 254 quindi clicco e ho preso il valore b di bianco rifacciamo fit e vediamo com'è ora la nostra immagine confrontandola con prima vedremo che è leggermente schiarita abbiamo visto come con due click abbiamo sistemato diciamo in maniera abbastanza buona l'immagine se volete vedere come appariva prima basta premere ctrl D per disattivare il nodo quindi ctrl D e possiamo vedere sia i segnali sugli scope che appunto sul viewer la differenza adesso ripremo ctrl D e vediamo l'immagine è veramente diversa ricordatevi che potete anche premere qua per disattivare le modifiche fatte sul nodo ovviamente con questi controlli automatici bisogna stare bene attenti perché bisogna puntare in aree completamente nere o bianche se la ripresa è buona andremo ad aggiustarla ma potremmo anche fare dei pasticci perché se io ad esempio con il cursore invece di prendere un'area bianca per sbaglio avresti preso in un'area più rosa vedete che ho cambiato completamente il bilanciamento dei bianchi di questa ripresa questo è un errore che ci può succedere ad esempio in una ripresa dove non c'è presenza di bianco assoluto questo è una cosa importante da conoscere come abbiamo visto non è sempre possibile usare degli automatismi ma vedremo che è facile un bilanciamento con le ruote colore ricordatevi prima di correggere la luminosità e in un secondo tempo colore e saturazione andiamo a mettere lo scope clicchiamo qui e sugli strumenti mettiamo RGB per avere solo RGB senza Y e portiamoci sulla terza ripresa questa qui impariamo a valutare la ripresa anche guardandola sul viewer come vediamo questa ripresa è sovraesposta ci risulta tutta la neve molto bianca ci sono pochissimi neri e c'è anche un po' il problema di colore adesso guardiamo gli scope e vediamo che su RGB Parade abbiamo tutti e tre i segnali clippati in alto e per questo la nostra ripresa risulta così la prima cosa da fare è posizionarci i neri quindi andiamo sulla Master Wheel Lift e ruotando qui ci portiamo giù vedete il punto dei neri lo portiamo verso meno 0.20 perché normalmente il nero deve stare in questa posizione attorno a 128 tra 0 e 128 non deve essere proprio schiacciato sullo 0 e già vedete che l'immagine si è più contrastata adesso dobbiamo invece spostarci sulla ruota gain dei bianchi e spostiamo la Master Wheel a 0.60 vedete che abbassiamo e facciamo rientrare appunto il segnale spostando 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 abbiamo i tre segnali in campo ora sono sbagliati vuol dire che anche il colore non è corretto però vediamo ad occhio che la luminosità dell'immagine è un po' bassa per aggiustare questo andremo ad aggiustare la gamma la portiamo a 0.15 quindi vi ricordate che la gamma va a spostare i nostri punti nero e bianco mantenendo il contrasto cioè la distanza tra questi e la sposta o più giù o più su ne dobbiamo spostarla più su quindi andiamo a metterla verso 0.15 vedete come il segnale si alza e come qua stiamo acquistando in luminosità ecco qui in pratica ora giusto è il segnale rosso perché vedete che sta in punti più chiari i punti dei bianchi stanno sugli 896 e i punti dei neri stanno sui 128 mentre gli altri due segnali sono un po' più alti infatti l'immagine ci risulta ancora celeste molto celeste vediamo anche sulla neve per esempio proviamo a vedere la differenza con lo scatto originale premiamo Shift D vediamo che questa era completamente sembrava sovraesposta e vediamo il segnale premiamo di nuovo Shift D e vediamo che l'abbiamo effettivamente abbassata recuperando tutti i dettagli qua ad esempio sulla neve che avevamo perso avete visto come abbiamo agito quindi portiamo prima i neri poi i bianchi e eventualmente aggiustiamo la gamma se l'immagine risultasse più scura o più chiara come contrasto generale dell'immagine ecco la lezione ci faceva accendere adesso gli scope però io ve l'ho fatto già vedere ovviamente perché ci tengo tanto agli strumenti in questi strumenti cosa possiamo vedere? possiamo vedere Waveform cioè tutto il segnale video poi possiamo vedere parede che stavamo usando quindi sono i canali RGB separati ognuno di questi rappresenta l'intero segnale video ma su quel colore quindi qui possiamo vedere l'intera immagine sui rossi, l'intera immagine sui verdi, l'intera immagine sui blu poi avremo il Vectorscope il Vectorscope è una rappresentazione vettoriale dei colori la vedremo in seguito nelle prossime lezioni qua abbiamo il nome dei colori e qua abbiamo il segnale che si sviluppa adesso la saturazione è poca ma avremo il segnale che si sviluppa così dandoci un'indicazione della percentuale di colori che c'è e del colore che c'è ecco guardate, detto fatto vi ho messo delle barre colore e vedete come queste barre non sono nemmeno tanto giuste hanno un vettore dei puntini questi puntini dovrebbero cadere all'interno del relativo quadrato cioè qui abbiamo un rosso questo puntino dovrebbe cadere qua magenta dovrebbe cadere qui il blu, poi vedete che anche il vettore è colorato del colore che va a indicare quindi ho il vettore che qua è di colore blu questo puntino dovrebbe cadere qua dentro e così via quindi qua ad esempio regolando la saturazione di questo colore potrebbe farla scendere vedete come si muovono i vettori da zero quindi non ho colore i vettori se aumentano la saturazione aumentano questo vettore verso il colore ovviamente quando l'immagine è un'immagine complessa così avremmo solo un'indicazione vedete che vediamo che abbiamo presenza di molti rossi che si stanno espandendo qua comunque questi strumenti li vedremo dopo e dopo abbiamo degli histogrammi possiamo vedere su ogni canale come si sviluppa il segnale del colore sempre per RGB e infine CAI Chromaticity da in questo spettro del nostro spettro REC709 come si sviluppa il colore ricordatevi che nella scala che abbiamo adesso sugli scope 1023 è il valore dei bianchi massimo tutto ciò che va oltre vuol dire che viene bruciato è sovraesposto e zero è il valore minimo adesso proprio basandoci sulla parade andiamo a sistemare il segnale del nero quindi andiamo a usare la master wheel del lift per portare il nero del verde verso 128 quindi ruotiamo e andiamo a abbassare così quando sarà appunto attorno a 128 poi spostiamo il gain cioè i bianchi sempre del verde finché la sommità sia attorno a 896 quindi spostiamo così che il top sia qua attorno come andremo ad aggiustare questo colore? prima lo faremo sulla parte dei neri andiamo a prendere la ruota colore la master wheel e trasciniamo questo indicatore verso i gialli arancioni perché questo? perché spostando verso i gialli arancioni sposteremo la base dei blu che sono mancanti quindi facciamo così facciamo rientrare vedete i rossi praticamente e anche i verdi per andare un po' a adeguare il segnale ecco qua vedete che ora sono molto più simili spostate fin tanto che vedrete il segnale più simile così ma ora dobbiamo aggiustare la sommità del segnale e per far questo usiamo la ruota dei gain dei bianchi quindi facciamo la stessa cosa trasciniamo vedete verso i ci sono spostamenti minimi ovviamente verso i gialli e arancioni ecco direi così voi guardate anche i valori che ho sotto di RGB così potete sapere vedete che la nostra immagine adesso è meno blu e abbiamo recuperato dei rossicci qua la neve adesso si vedono bene anche i segni sulla neve e l'immagine è più corretta proviamo come di solito a premere SHIFT D e vedere la differenza guardate avevamo una ripresa che era improponibile e ora l'abbiamo portata a una ripresa decente io gli alcerei un pochino ancora la gamma ma essendo che c'è tutta questa neve può essere che la ripresa risultasse così per la forte luminosità appunto della neve e eventualmente se a voi piace potreste leggermente alzare la gamma quel po' da recuperare un pochino di luminosità ricordatevi però di fidarvi più sugli strumenti anche sui vostri occhi perché per un colorist è molto importante anche vederlo alla ripresa però se non avete un monitor bilanciato forse è meglio usare lo strumento un altro trucco che ho visto io è quello di non fidarsi solo del viewer qui ma premere CTRL F per avere l'immagine a pieno schermo e magari poterla valutare meglio vedete che si vede in maniera diversa da averla piccola a averla a tutto schermo quindi CTRL F potete eventualmente ingrandirla e quando è ingrandita se premette SHIFT D vedete comunque funziona il comando e quindi potete vedere la differenza SHIFT D ho l'originale e SHIFT D ho la correzione in DaVinci poi esiste la possibilità di uscire con il segnale verso un monitor che appunto può essere professionale e calibrato abbiamo visto come non è così difficile correggere un'immagine con le ruote colore però DaVinci ci permette di avere molti strumenti per ottenere lo stesso risultato strumenti ovviamente che possono facilitarci in questo andremo a vedere nella clip numero 6 che possiamo selezionare questa qui del papà cowboy e che notiamo avere dei problemi ma questa volta invece di andare a correggerla con le ruote colori andiamo a attivare un altro key memory tool cioè clicchiamo qui e andiamo a cliccare PRIMARY BARS PRIMARY BARS è lo stesso principio delle ruote colore ma ci permette di avere la luminosità e il colore come vedete in controlli separati sempre per i neri la gamma i bianchi e l'offset questo ci permette di avere un controllo molto preciso e più semplice da utilizzare questa che vediamo è una prima intervista di questi signori ci saranno altre durante la produzione di questo video sfortunatamente come potete vedere non possiamo creare l'automotismo di prima col punto bianco e nero perché qui non c'è un bianco il cappello del cowboy non è bianco e non abbiamo altri punti di riferimento così come per i neri potremmo presupporre delle aree più scure ma non magari nere comunque in questo caso potremmo affidarci molto ai nostri occhi e a degli strumenti che ci mette a disposizione ovviamente DaVinci allora per prima cosa andiamo ad aggiustare un po' la luminosità portando questa barra a meno 0,3 come si fa? questa barra è molto precisa possiamo sia trascinarla con tasto sinistro del mouse e trascinarla su e giù adesso io faccio l'estremo per farvi vedere oppure adesso vado a resettare il valore ovviamente oppure possiamo andare a muoverla con la rotellina del mouse quindi ruotate la rotellina del mouse vedete che abbassate di pochissimo il valore quindi portiamola a 0,03 ovviamente adesso avete delle indicazioni numeriche che ci dà la guida ma dovete abituarvi a farlo tutto guardando il segnale io ho portato il segnale dei rossi giusto sul tra il 128 e lo 0 ora andiamo sui bianchi sempre luminosità e spostiamo il segnale in basso fin tanto che il segnale del verde è attorno agli 896 quindi qui rotellina del mouse ruotate, ruotate, ruotate e portate così quindi il segnale del verde vedete ora è il segnale giusto al top diciamo un altro strumento che ci permette di capire come è il bilanciamento di questa immagine in questo preciso momento un puntatore questo si chiama RGB Picker per averlo possiamo puntare nel viewer premere il tasto destro del mouse e andare su Show Picker RGB Value allora per cercare di bilanciare questa immagine cerchiamo il punto più neutro possibile abbiamo la fortuna che la sciarpa del signore è grigia il grigio ovviamente è un colore che ha l'RGB con lo stesso valore e quindi abbiamo i valori in RGB che sono i classici valori 8 bit dell'RGB che va da 0 a 255 questi ci mostrano ovviamente come abbiamo visto prima i valori del singolo canale se vogliamo possiamo avere anche questa rappresentazione numerica questo riferimento come 10 bit e quindi che assumerà un valore da 0 a 1023 per fare questo bisogna andare su View poi bisogna andare su Show RGB Picker Values che lo troviamo qui e come vedete abbiamo 8 bit o 10 bit se passiamo a 10 bit come vedete ora abbiamo un valore di 1023 come massimo valore e quindi questo valore in questo momento è quello della scala cliccate come vi trovate meglio insomma io se adesso vado sulla sciarpa grigia del signore posso vedere forse io mi trovo meglio con il discorso RGB perchè essendo il numero più piccolo mi da subito la rappresentazione sono più abituato possiamo vedere il valore cosa vediamo dal valore ad esempio io in questo punto qui che sono grigio ma a qualsiasi altro punto ecco qua lo vediamo benissimo che ho un rosso 0,79 quindi è il valore più grosso che ho e quindi vorrà dire che il canale rosso è il canale che ha più segnale in questo momento poi vediamo 0,70 per il verde e blu abbiamo 0,64 quindi vuol dire che siamo bassi di blu infatti lo possiamo vedere anche dallo scope siamo bassi di blu e molto alti sul rosso quindi dovremo adeguare questo segnale alzare il blu e abbassare i rossi andando a agire sulla gamma andiamo ad alzare un po' facendo questo controlliamo il segnale e col picker controlliamo sempre vedete che è un po' esagerato il blu adesso è 0,90 quindi abbassiamo un pochino qui e alziamo e abbassiamo i rossi fino a che il valore sulla sciarpa è quasi uguale quando avete raggiunto un punto in cui vi sembra che i valori in qualsiasi punto della sciarpa siano simili vedete ho 60, 50, 60 sono molto simili in alcuni punti va un pochino più su un valore rispetto a un altro però 0,71 0,69 0,71 un po' meno verde insomma vedete che anche la nostra immagine è molto più bilanciata se premette shift D saltiamo il nodo e vediamo la differenza guardate che differenza ora vediamo come utilizzare il bilanciamento con controlli addizionali ai controlli primari andiamo ad esempio sulla clip 9 questa qui intanto vi faccio notare come tutte le clip corrette hanno una cornicetta colorata quindi a colpo d'occhio possiamo identificarle subito questa 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 erano state tutte controllate invece questa dove ci troviamo adesso ad esempio non ha nessuna correzione spostiamoci qui nel tab 2 dove abbiamo temperatura tinta eccetera vediamo questa ripresa con questo taglio di luce laterale e vediamo che risulta molto smorta vediamo anche i segnali RGB e adesso andremo invece a regolare shadow per appunto contrastare un po' l'immagine quindi portiamo il verde vediamo che il segnale è molto alto sui neri abbiamo 2,56 abbiamo detto che dobbiamo stare tra 128 e 0 infatti portiamo i verdi verso 128 regolando però il shadow quindi andiamo a abbassare fin tanto che il nostro verde toccherà la linea dei 128 guardando sempre il segnale dei verdi vediamo che è sotto però come punti bianchi quindi regolando le highlights questo giro andiamo a portare su questo segnale che raggiunga gli 896 quindi su highlights alziamo un po' il segnale e vedete già proviamo shift D come abbiamo contrastato la nostra ripresa con questi due controlli shadow e highlights abbiamo usato dei controlli molto simili a lift e gain cioè a bianchi e neri così è shadow e highlights però abbiamo visto la scorsa volta che questi come raggio di azione operano in due zone più distinte dell'immagine mentre lift e gain hanno un'area più grande di range di azione sconfinano gli uni negli altri invece shadow e highlights sono un pochino più isolate nell'area delle zone in ombra diciamo nei neri e nelle zone degli highlights le parti chiare dell'immagine e ora per andare a bilanciare come bianco questo segnale come bilanciamento colore andiamo a operare invece sulla temperatura e cosa vediamo? vediamo che c'è molta presenza di rosso e quindi spostiamo il comando temperatura pian pianino da una parte e dall'altra fino a livellare tutti e tre i segnali andiamo in meno verso sinistra vedete io già ho fatto pratica e vado a portare vedete così avrei creato l'opposto di qua vado a portarlo di qua per livellare al meglio i segnali eccole qua ora per valorizzare questa immagine e renderla ancora più bella viva andiamo a regolare i midton cioè i toni medi e portiamo questo valore MD verso destra tra 20 e 30 a seconda della vostra se quando lo spostate notate la pelle della mano vedrete che diventa molto più nitida non esageriamo spostiamolo così proviamo a fare una prova mettiamolo a pieno schermo CTRL F guardate bene la mano ora premiamo SHIFT D vedete come abbiamo modificato l'immagine guardate che bello prendiamo tutto qua questo wallone sul jeans e contrastiamo tutta l'aria e inoltre abbiamo anche aggiustato il bilanciamento colore quindi i colori sono più corretti riprendiamo CTRL F come avete visto questi controlli possono operare così singolarmente ma potremmo utilizzarli anche assieme alle ruote primarie perché ci permettono appunto un'ulteriore correzione come ad esempio per rendere più viva l'immagine potremmo andare a regolare il color burst cioè la quantità del colore e vedete farla più satura e così otterremo un'immagine più vivida spero stiate prendendo la mano con questi controlli perché è divertente poter aggiustare così poco le nostre immagini quando abbiamo compreso il funzionamento avete visto è un insieme di saper utilizzare gli strumenti e anche un po' il gusto personale quindi l'occhio personale di capire come ci appare quell'immagine ora andiamo a regolare invece un'altra immagine critica che è la numero 15 questa qua del trattore che tra l'altro è stata girata in un orario pomeridiano rispetto alle altre riprese e vediamo come anche questa ripresa ci risulti sovraesposta torniamo alle ruote e andiamo ad abbassare l'offset per riportare il range all'interno portiamolo a circa 5 quindi abbassiamo abbassiamo vediamo il segnale che rientra abituatevi sempre e portiamolo verso 5 intanto notiamo subito come l'immagine abbia recuperato tutte cose che avevamo perso anche questa immagine ha un'ampia gamma dinamica e si può vedere dall'ampio segnale che abbiamo quindi dobbiamo andare a recuperare le parti alte le luminosità e le ombre ma per farlo questa volta utilizziamo un altro strumento le curve le curve le troviamo cliccando questa icona qui curve che ci fa apparire questo grafico questo grafico rappresenta la luminosità quando noi parliamo di valori tonali o range tonale stiamo parlando di valori di luminosità ricordatevi questo grafico riporta sull'asse x i valori tonali della vostra ripresa che vanno da nero ai bianchi infatti questo vettore questa linea diagonale rappresenta il passaggio dal nero al punto massimo bianco e qua ci sono i valori tonali della vostra immagine però queste curve possono operare anche su separati canali quindi abbiamo y e la luminosità e poi abbiamo i soliti canali rgb una cosa in più che mi pareva di aver già detto ricordatevi che sulla color page ogni clip che voi modificate ha una sua propria storia e quindi come undo e redo se io vado a tornare indietro di un operazione in questa clip andrò indietro in tutte le operazioni che ho fatto in questa clip se cambio clip e appunto torno indietro con undo avrò appunto la storia di quella clip quindi questo mi permette di fare delle operazioni in varie clip e poter andare avanti e indietro nelle operazioni che ho fatto finchè resto in quelle clip non necessariamente appunto toccando la storia di altri clip per prima cosa andiamo a operare sulla luminosità quindi premiamo y e spostiamo il punto dei neri un po' più in alto perché le parti in ombra del trattore non devono essere tutte nere completamente nere quindi andiamo ad alzare un pochino questo valore e controllate sempre qua il livello vi ricordate che dobbiamo essere attorno a 128 ora andiamo a operare sul bianco vediamo che le nuvole sono sovraesposte e cerchiamo di recuperare un po' di dettaglio quindi portiamoci sul punto del bianco e lo trasciniamo verso il basso sempre controllando lo strumento fin tanto che vedete andiamo a recuperare dettagli sulle nuvole perfetto regolando questi due punti è come regolassimo il contrasto perché abbiamo visto che portiamo i neri dove vogliamo e i bianchi dove vogliamo però come vediamo c'è ancora la parte del segnale è clippato e infatti lo vediamo anche dagli scope per regolare questo c'è un altro controllo che si chiama iSoft che è questo HS e se noi andiamo a alzarlo trasciniamo verso destra andiamo a ammorbidire la parte alta dei bianchi vedete guardate sulle nuvole cosa succede andiamo a recuperare tutte le parti perse perché andiamo ad ammorbidire il segnale nella parte alta l'avete visto e qua lo possiamo regolare giocare tra questo di portare dentro il segnale senza perderlo troppo e questo per andare ad ammorbidirlo proviamo ancora una volta a premere SHIFT D per vedere che bella differenza abbiamo ottenuto una cosa che vediamo particolarmente è però il celeste sulla neve allora cosa facciamo? facciamo come prima un bilanciamento però questa volta usando le curve andiamo a fare un'operazione in più che è più professionale cioè come ho detto l'altra volta noi stiamo operando tutto su un nodo e vi ricordo abbiamo il numero del nodo poi abbiamo vediamo le barre che noi abbiamo fatto una correzione praticamente sulle barre e le curve quindi anche stando qua vedete primary offset custom curve soft clip adesso andiamo ad aggiungere quindi qui in questa immagine abbiamo fatto una correzione di contrasto e luminosità adesso andremo a fare una correzione colore quindi per farla andiamo a aggiungere un nodo quindi tasto destro add node serial node e in questo faremo la correzione colore come è giusto ricordatevi d'ora in poi farete sempre un nodo per la correzione del contrasto e luminosità eccetera e un nodo per la correzione colore e anche per ricordarcelo facciamo quello che abbiamo fatto anche la scorsa volta quindi premiamo sul primo andiamo su node label e scriviamo tonal balance praticamente bilanciamento tonale qua abbiamo detto quando parliamo di tonale vuol dire luminosità invece di qua clicchiamo facciamo node label e facciamo color balance quindi bilanciamento colore proviamo a ruotare la rotellina del mouse e spostarci con la rotellina del mouse verso le ruote vedete che hanno un bluastro allora adesso premiamo B qua e vediamo il segnale del blu prendiamo questo che è il punto dei neri e lo spostiamo verso destra per abbassare vedete la parte dei neri del blu e quindi togliere il blu vedete com'è proprio si vede benissimo qua la ruota è blu se io lo sposto verso destra vado a perdere quel blu quindi basta quel poco per perdere blu se esagerate viene fuori il verde e il rosso quindi è una cosa quasi millimetrica direi e lo possiamo vedere da qua poi riallarghiamoci a tutta l'immagine cliccando qua e fit e adesso invece allineiamo la parte alta del blu sulle altre in maniera da avere un villaggiamento sugli altri quindi prendiamo qui e la spostiamo da questa parte guardate bene la parte del cielo delle nuvole e anche della neve stessa saliamo 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 e arriviamo più o meno così qualche volta aggiustare il contrasto i punti del nero e del bianco può essere sufficiente come abbiamo visto ma in altri casi no ad esempio la nostra immagine presenta ancora dei punti verdi nella parte centrale della regione tonale e quindi andiamo a premere G come curva verde e andiamo a posizionarci un punto clicchiamo su questa appunto linea in mezzo e creiamo un punto infatti le curve sono molto flessibili per andare a correggere e anche altre aree tonali quindi abbassando questo punto andremo a abbassare il verde e incrementare rosso e magenta pian pianino vedete che sale rosso e magenta e andiamo a togliere il verde guardate bene l'immagine qua specie in queste aree sulla neve anche sulle ruote andiamo a scendere e vedete che l'immagine diventa più rossiccia ora la neve sembra anche più bianca allora se vogliamo ora controllare cosa abbiamo fatto come abbiamo operato se premiamo ctrl d andiamo a disabilitare il nodo color balance vediamo vedete guardate che verde che era qui andiamo e guardate ad esempio sul cielo certe parti delle nuvole come anche sulla neve stessa vedete come abbiamo bilanciato bene se premiamo shift d andiamo a spegnere entrambi i nodi e quindi possiamo verificare tutta la nostra correzione sia tonale che sul colore guardate che bella differenza dalla ripresa iniziale che avevamo a ora ora possiamo essere veramente soddisfatti se guardiamo il nostro segnale vedete che torneremo con i segnali rgv molto simili quando operiamo sulla color dobbiamo stare attenti anche a una continuità delle riprese in realtà il nostro occhio in natura bilancia molto i cambiamenti che possono essere anche una semplice nuvola che entra e invece in ripresa questo è tutto molto più complicato però noi potremo andare a copiare delle correzioni che abbiamo fatto su riprese simili girate magari nelle stesse ore del giorno e che presentano gli stessi problemi infatti se ci spostiamo nella clip 4 vediamo che questa ripresa assomiglia tantissimo alla ripresa prima della neve e della montagna potremo copiare le correzioni che abbiamo fatto infatti in quella clip la clip era la 3 ora vediamo vari metodi per copiare da una clip all'altra le nostre caratteristiche andiamo sulla clip corretta facciamo ctrl c e copiamo poi ci spostiamo sulla clip 4 e facciamo ctrl v e come vedete in un lampo abbiamo corretto questa clip poi potremo eventualmente apportare altre correzioni ma in questa maniera se guardiamo il video vedremo una continuità tra la clip 3 e la clip 4 perché sono uguali stessa cosa ci si ripropone alla fine del video sulla clip 16 questa clip è stata girata nel stesso momento nello stesso lasso di tempo di quella del trattore infatti vediamo che come clip iniziale è molto simile se disattiviamo le correzioni che abbiamo fatto vediamo che le clip infatti si assomigliano a molto quindi andiamo a copiare anche questi parametri però questa volta facciamo un altro metodo clicchiamo sulla ripresa da correggere questa qui ci spostiamo su quella da cui vogliamo copiare i parametri e premiamo la rotellina del mouse click e automaticamente portiamo questi parametri nella clip che avevamo selezionato vediamo in un colpo solo abbiamo corretto anche questa adesso ci spostiamo nella clip 9 che avevamo già corretto vi ricordate le clip simili sono la 10 e la 11 proviamo a copiare questo parametro della 9 lo facciamo in un altro metodo ancora ci portiamo sulla 10 andiamo sul menu color e andiamo a scegliere apply grade from one clip prior e vedete che c'è anche il simbolo quello di uguale che è il suo shortcut poi questo dipende dalla tastiera fate attenzione cosa vuol dire vuol dire di applicare la color grade prendendola da una clip prima proviamo e vedete che effettivamente si è aggiustata che dopo sia proprio corretta però è molto simile a quella da dove abbiamo copiato se andiamo sulla 11 c'è un secondo metodo con cui possiamo copiare e vogliamo copiare sempre dalla 9 quindi facciamo color apply from two clip prior cioè da due clip prima quindi sempre da quella della spazzola del jeans che il simbolo è il trattino in centro come shortcut clicchiamo e questa clip ha copiato da questa potevamo copiare anche da questa visto che abbiamo appena copiato i dati però diciamo era per farvi vedere la possibilità quindi possiamo cliccando su una clip copiare da quella prima cliccando su una clip copiare da due prima oppure come abbiamo visto scegliere la clip e con la rotellina cliccare sul punto dove vogliamo copiare molte volte abbiamo bisogno però non semplicemente di copiare incollare ma anche di avere qualche possibilità in più e questa caratteristica ce la permette la gallery cos'è? intanto la attiviamo cliccando qua gallery quest'area ci permette di creare come vedete delle stills con il bilanciamento colori e bilanciamento tonale che abbiamo fatto su un'immagine proviamo a prendere la numero 6 questa qui e portarla in galleria per farlo si fa right click cioè il tasto destro del mouse su viewer e facciamo grab still come vedete viene creata un'anteprima qui è proprio come la nostra ripresa forse portata qui e con sotto un numero allora innanzitutto andiamo a cambiare il nome clicchiamo qua change label e aggiungiamo il nome ho scritto launcher balance e adesso da qui potremo andare a confrontare questa clip che abbiamo inserito nella galleria con altre interviste ad esempio la 17 che come vedete non avevamo corretto come facciamo per confrontare una clip inserita nella galleria con la nostra intervista facciamo un doppio click il viewer viene splittato vedete che cambia il cursore quando vado a cliccare e posso spostare questa tendina che è verticale inoltre ovviamente funziona anche se premio ctrl f ho lo stesso lo split vedete che posso andare a spostare verticalmente poi in alto qui troviamo come è suddiviso lo schermo così è in verticale possiamo fare un confronto verticale così in orizzontale se magari qualche su qualche clip si va meglio e mix abbiamo un mix delle due questo può servirci per altre funzioni lasciamo il verticale innanzitutto a parte avere un controllo a occhio ovviamente vediamo l'immagine non colorata ecco avete visto eh anche una cosa quando facciamo doppio clic che ci apre l'immagine ricordatevi che l'immagine bilanciata appare sulla destra mentre l'immagine nostra ancora non bilanciata appare sulla sinistra questo è molto importante inoltre guardate cosa succede nello scope possiamo confrontare direttamente la ripresa non bilanciata dalla ripresa bilanciata a questo punto possiamo sia controllare le differenze qui ma cosa ancora più importante possiamo applicare questo bilanciamento questo color alla nostra clip cliccando tasto destro e facciamo apply grade in questa maniera come vediamo abbiamo applicato l'unica cosa che la vediamo un po' più scuretta perché ovviamente dipende sempre anche dalla clip che riceve quindi possiamo usare la master well sul gain per andare a alzare vedete portarlo allo stesso livello inoltre un po' giù di saturazione quindi con la saturazione possiamo alzare un pochino ecco e portarle come vedete molto più simili poi confrontandole ovviamente possiamo fare eventualmente anche altre correzioni infine per disattivare lo split dello schermo basta cliccare qui e andiamo a disattivare appunto il confronto come avete potuto notare lo shot matching cioè la corrispondenza delle caratteristiche della della ripresa del color grading che andiamo a fare è facilitata dall'utilizzo della galleria perché possiamo non solo confrontare una ripresa così a occhio magari l'occhio ce la fa sembrare simile ma appunto possiamo fare così creare gravestill andare sull'altra clicchiamo due volte e possiamo confrontarla già qua vedete che ne so ad esempio il cielo ha una colorimetria diversa potrebbe essere sul terreno eccetera eccetera quindi è molto siamo molto più facilitati guardate la neve ad esempio e abbiamo dei riferimenti molto molto più precisi anche con l'uso della strumentazione che ci fa capire subito dove c'è differenza e inoltre ciò ci permette anche di applicarlo anche ad altre riprese ad esempio appunto andando a fare apply e applicare quello stile che avevamo applicato alla ripresa prima avete visto quante cose abbiamo imparato in questa lezione ma nella prossima vedremo assieme anche la correzione colore secondaria ed ora la nostra lesson review nella color page cosa rappresenta la linea 1023 nel grafico delle parade scope vero o falso con le custom curve le curve personalizzate puoi regolare solo i canali rosso verde e blu come si salva un still per un'immagine nella gallery se l'rgb picker si trova in un pixel neutro grigio per esempio quali dovrebbero essere i valori rosso verde e blu cosa succede facendo un doppio clic su uno still nella gallery bene avete visto lezioni sempre più interessanti sulla color la prossima lezione parlerà di correzione colore secondaria quindi continuate a seguire tutte le lezioni vi ricordo se volete sostenere il mio canale in descrizione al video troverete modi di farlo e se non siete iscritti al canale iscrivetevi e cliccate la campanella se volete essere avvisati ogni volta che posto un video arrivederci alla prossima lezione grazie a tutti grazie